ricordo che c'è Cicella oh la cosa strano che non stia avendo problemi alle bolle ai cubi di mezzo perché io sempre lì mi ho avuto problemi no lì sono morto sì sono morto poca roba e quindi questo ah ma che stavi dicendo prima della che ti dovevo consigli a qualcosa ah prima del terremoto se mi ma non adesso poi dopo con calma magari i consigli vabbè che con Spodifabili gratis non posso fare un cazzo però magari me le cerco su youtube canzoni, artisti perché io vado molto randomicamente non è che tipo dici mi piace la canzone mi informo nel senso vado molto a orecchio purtroppo perché adesso non riesco a capire il contenuto delle parole a meno che non me le cerco io personalmente i denti finito eeeeh si va per il giri ahahahah ahahahah ma che fai ahahah ma ha perso un bordello di tempo questo quanto ci hai messo in totale no di minuti quanto ci avevi messo che diceva no la sessione mi dà 18 minuti però ho perso praticato un punto ora comunque 234 è tutta lì è un marzo 234 e io mi salve 22 ce l'ho messo qualcosa del genere